bella raga siamo su budokai 3 hd collection e siamo nella saga nella saga di freezer con con vegeta continuiamo la storia e mi devo lamentare di me stesso perché è due giorni che faccio video e poi faccio i video e poi mi dimentico di aver registrato l'audio di aver registrato il video nessuno dei due no non lo so sono distratto probabilmente sarà perché ho veramente tanto da studiare nel senso che studio sembrerà strano anche a me sembra strano adesso ve lo dico mi viene da ridere perché non è mai successo studio boh 5 6 ore in un giorno non mi succede spesso ecco mi succede solo magari due mesi all'anno forse meno no si due mesi all'anno diciamo e questo è uno di quelli tutto gennaio almeno per altri 10 giorni devo studiare così perché ho gli esami in università e quindi sono molto non lo so distratto si ecco può essere va bene no non volevo sentire ok va bene dette tutte queste cavolate che magari a voi non interessano passiamo subito alle news news di questi giorni sono che innanzitutto penso non so se domani qui c'è il radar del drago giusto ok qui c'è una sfera infatti me lo ricordavo non so se domani o comunque presto nei prossimi giorni adesso non so quando ma nei prossimi giorni dovrebbe uscire il video che mi avete chiesto come sbloccato cioè non mi avete chiesto proprio un video però ognuno mi chiede un personaggio diverso quindi come si sblocca questo come si sblocca quello come si sblocca quell'altro chi su chi giù chi destra chi sinistra fatto sta che vi faccio un video su come sbloccare tutti i personaggi che devo dire è veramente un bel lavoraccio ci sto perdendo veramente tanto tempo però per voi lo faccio molto volentieri come sapete quindi niente quindi sono sono quasi comunque ho già fatto tutto giù sono comunque contento di farvelo mi sembrava ci fossero tre sfere vabbè forse mi sbaglio sono comunque contento di farvelo questo video e quindi niente ve lo farò in ogni caso comunque vi farò questo video molto dove si spiega bene come si fanno tutti questi personaggi altre cose da dire news per tutti i nuovi iscritti ancora una volta vi ripeto scrivetemi sia che seguite questi video sia che seguite altri video più qualunque video tipologia voi seguiate non mi interessa cioè no mi interessa però non mi interessa è indifferente mettiamola così scrivetemi se avete delle richieste se avete dei consigli se avete qualunque cosa volete scrivermi scrivetela perché io vi rispondo non pensiate che non rispondo anzi rispondo a tutti sempre e quindi iscrivetemi perché il mio canale come dico sempre per chi è già iscritto da tanto lo sa per chi non è iscritto da tanto non lo sa è basato sulle vostre richieste e quindi io sono molto contento di farvele le richieste che mi fate poi ovviamente faccio comunque le mie serie di contorno però le richieste sono una parte fondamentale per il mio canale poi vi voglio chiedere come va con mazzo penso bene giudicare da tutti i commenti e le visualizzazioni che ottiene penso proprio che vada bene e poi altre cose da dire allora ah si ci sono delle news delle news veramente 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 importanti che sono però ve le dirò in un altro video non adesso perché a non ho tempo b non c'entrano con questo contesto vorrei che il video lo vedessero tutti e non c'entrano con dragon ball quindi vi dicevo i nuovi iscritti fatemi richieste sia di ma non di dragon ball cioè va bene anche di dragon ball però va bene qualunque altro tipo di gioco cioè gran turismo skyrim cod qualunque cosa voi chiedete io vi risponderò poi 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 prima che mi dimentichi no penso che le cose importanti da dire le abbia lette già il video ve l'ho detto che uscirà a breve spero vi vada bene sto facendo uscire anche gli episodi delle episodi le sfere di drago di tutti i personaggi che se non le trovate almeno le c... non dovete star lì a menarvela cercare perdere tempo ve le fate vedere si vede sono lì dove c'è il video e se è abbastanza facile non c'è l'audio ma vabbè l'ho fatto solo per cercare le sfere non è un vero non è un commentary cioè abbastanza che sfortuna non sono salito per 15 vabbè che caso mazzo eh quando vedrai questo video 15 per 15 e vabbè e cosa che stavo dicendo ah sì no non mi ricordo vabbè lasciate perdere sempre per la storia che sono distratto e non ci faccio caso non ho non mi ricordo cosa stavo dicendo vabbè fa niente amen battiamo freezer battiamo freezer se ci riesco ma forse salgo anche di due lì oh stai calma freezer e questo freezer è forte eh ah ecco cosa vi dicevo mi manca godo mi manca tra tutti i personaggi che ho fatto che ho detto che è un lavoraccio mi manca vegeta super saiyan 4 quindi finito questo video mi sa che mi toccherà andarlo a cercare perché sennò me lo dimentico e so già che voi mi scriverete ma perché non c'è vegeta super saiyan 4 io dovrò fare un nuovo video solo per lui quindi adesso me lo devo ricordare kb smemorato te lo devi ricordare e qui ci resto godo è morto solo lui e dove faccio vegeta super saiyan di quarto livello vediamo se salgo di due livelli perfetto quindi uno ci aumentiamo la salute di sicuro e l'altro magari aumentiamo l'attacco per non fare sempre la vita anche perché mi hanno chiesto anche questo io secondo sempre le vostre richieste mamma mia come sono bravo quindi detto tutto ciò adesso andiamo avanti si si freezer crepa ah no non andiamo neanche avanti perché la saga di freezer per vegeta è vero finisce qui perché qui sono tutte divise quindi goko e gli altri tornano indietro ma goko rimane sul pianeta va bene basta quindi io vi ringrazio scrivetemi nei commenti quello che le risposte alle mie domande e nulla poi come di consueto ci vedremo con i prossimi video quindi ci si vede vi ringrazio vi ringrazio